Buongiorno a tutti, oggi faccio un dolce con le pere estive. Mi occorre 200 g di pere estive fatta a pezzetti, 4 uova, 180 g di zucchero, 80 ml di acqua, 80 ml di olio, 100 g di mandorle frullate con tutte le bucce, 50 g di gocce di cioccolata fondente, 100 g di farina di cocco, vaniglia, lievito per dolci, una bustina, 300 g di farina e senza di rum. Procedo con mettere le uova con lo zucchero e vado a montare. Una volta montate le uova inizio la preparazione. Vado ad aggiungere l'acqua e mescolo. Metto l'olio. Ho usato l'olio d'oliva ma si può usare anche l'olio di semi. Metto la maniglia. Metto la farina di cocco. Le mandorle tritate. Ora aggiungo la farina. Poca alla volta. Precedentemente setacciata. Metto la farina. Lascio un po' di farina, metti il lievito, anche il lievito setacciato separatamente. Aggiungo la farina alle pere, un po' di farina che avevo lasciato prima, mescolo, ora metto le gocce di cioccolato, a questo punto aggiungo le pere. Metto l'essenza di rum, rimescolo, precedentemente in una teglia di 28 cm di diametro ho messo la carta da forno ed ora verso il composto dentro. Livello tutto bene, ora la vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 meno cottura. Dopo 35 minuti eccola pronta. Ho spolverato un po' di zucchero a bella e ora la vado a tagliare. Eccola pronta da gustare, grazie della visione e alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Ciao! Ciao!